Milano Verticale è questo nuovo progetto nato con Enrico Bartolini che tutti noi conosciamo, tre stelle Michelin a Milano, è un progetto unico perché all'interno di questo nuovo edificio che nasce traccorso come Porta Garibaldi che ospita questo albergo che è Milano Verticale e ospita tutta la parte di ristorazione dove all'interno c'è questo abbraccio quotidiano di Vertigo che è un'osteria contemporanea quindi pranzo e cena, poi abbiamo Vertigo Urba Garner Cocktail Champagnerie che accompagna anche questo con i cocktail di champagne, in più c'è anche Anima che è il ristorante fine dining. Gli ingredienti che selezioni per i miei piatti è molto semplice, sono ingredienti di artigiani, di piccoli coltivatori, di piccoli elevatori e soprattutto di altissima qualità, un po' quello che si faceva una volta. L'ingrediente calore è più che importante e indispensabile all'interno delle mie preparazioni perché è quello che poi rende tra virgolette anche appetibile, commestibile, goloso il prodotto finale quindi è veramente indispensabile. Chi mi conosce sa benissimo che ho un animo e scorre sangue green. Nella vita ho sempre fatto sostenibilità e non potevo che scegliere il forno Moretti, quello che c'è alla mia spalla è serie S ed è il miglior forno che al mondo ci possa essere perché ha un'ottimizzazione anche all'interno di consumi energetici e tantissime cose che sono uniche nel suo genere. Qui a Vertigo, Osteria Contemporanea, sfruttiamo tantissimo il forno serie S Moretti, soprattutto con la cottura statica, non solo per le pizze, le focacce, anche per i croissants levitati e stiamo già iniziando a fare sperimentazioni sui piatti classici di una volta come, non so, la parmigiana, le lasagne, il pesce cotto al forno chiuso all'interno di un contenitore in modo così la pietra riflettaria non si rovina e devo dire che fa completamente la differenza. Il calore perfetto oltre a rendere un prodotto più salubre sicuramente dà la perfezione giusta per la degustazione quindi non si può prescindere da una cottura. Serie S ti accompagna nella cottura gestendo bene anche la parte di vapore, la platea, il cielo e quindi oltre a un risparmio energetico molto alto, parliamo del 35% e una serie di programmi che ti accompagnano anche nell'ottimizzazione di cottura posso tranquillamente dire al cliente che il prodotto che sforniamo è altamente sostenibile. Grazie.